Una volta acceso il misuratore, verrà direttamente visualizzata la misurazione principale. Premendo il tasto On-Off, l'audio verrà attivato o disattivato. Mediante gli appositi tasti di regolazione, si potrà selezionare il volume desiderato. Mediante il tasto Filtri, l'impostazione dei filtri verrà commutata fra Passa alto e Passa basso. Anche il valore di misura varierà in base alle impostazioni dei filtri. Premendo il tasto Illuminazione, si potrà attivare o disattivare la retroilluminazione e il LED perdite. Premendo a lungo questo stesso tasto, si potrà attivare o disattivare la funzione Torcia tascabile.